Ciao a tutti ragazzi, sono Alex, siamo tornati ancora una volta su Browstart, questa volta come avete votato voi nel suo scorso video, il sondaggio, se lo siete aperti andate da recuperare, lo abbiamo shoppato Babbo Dyne di Natale, Babbo Dyne, come volete chiamarlo, ci andiamo a shoppare nel negozio le skin, queste delle feste, le andiamo a prendere, sicuramente Colt Corsaro, poi vediamo se l'ultimo giorno, se questo video riesce ad arrivare almeno a 10 mi piace, andiamo a prenderci anche le Elfa Penny. Quindi, mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici per raggiungere la soglia. Detto questo, piccolo breve intro, andiamoci subito a shoppare Colt Corsaro con 150 gemme, quindi siamo pronti e tac. Skin secondo me la più bella di tutte, facciamo uno screen e andiamo a impostarlo, eccolo. Qua, bellissimo, Colt Corsaro. Ok, detto questo andiamo a provare Colt in qualche modalità, andiamo a provarlo in sopravvivenza in singolo, che la mappa è abbastanza fattibile per provarlo. Allora, prendiamoci queste cassettine qua sotto, subito assolutamente, lassù c'è un Roller che non mi ricordo mai come si chiama, purtroppo. Allora, manca l'altra cassettina qui, due Power Up, prendiamo anche quella, sarebbe il top, perché andiamo a tre. E ce la possiamo gestire abbastanza bene. Qua c'è un Carl, che ci colpisce. Oh, c'è anche un Mortis, c'è un Mortis. Se il Carl mi dava una mano, magari lo ammazzavamo chiusendolo qua sotto in un angolo. Colpi che entrano, ma non sono sufficienti, comunque skin è veramente bella. E guardate come è fatta bene, più che altro. E i colpi anche sono bellissimi, cioè parlano del pallotto di fuoco praticamente. Quel Mortis sta a continuare a sbignare, nessuno che gli spara, nessuno che gli dà fastidio. Qua su c'è una Jessie, da quello che ho potuto vedere. Eccolo che sta arrivando. E' il Mortis da sotto che mi aspettava male. Ma, non mi dispiace, ma non mi inculi malissimo così. Ok, prendiamo questo così in attimo, possiamo difenderci. Prendendo, ma facciamo fuori Jessie, ottima kill. Recuperiamo un po' di life. Bellissima questa kill atomica su stecchino lì. Che faccio, che è un amore. Quel Bull là, andiamo a fargli un po' di danni. Qua c'è se il primo che è mezzo paccato. Vabbè, ce lo portiamo via malissimo. Qua non ti cominciai ad avvicinarti più di danno perché ti ammazzo. Ecco, bravo, sbignate, ha fatto un giro. Vai su, va a ammazzare il tuo primo là. Uh, lì c'è la kill sicuro di qualcuno. Ok, Bull è che sta sbignata. E' andata in mezzo alle puzze là. Ok, torna giù. Dove sei? Boom, baby, kill l'ado. Nascosto nella nebbia era passato sopra. E andiamo a farci questa bellissima vittoria. Con il nuovo Colt e Gorsara. Ottimo direi. Siamo a 7800. Mancano veramente poco per bloccare Amso. Mancano 200 punti. Andiamo a aprirci un paio. Sei cassettine così giusto sporadiche. Per vedere se troviamo qualcosa. Per tornare a 40. 10 quotidi, 10 bombardini ottimi. 20 monede, 6 piper, 7 mortis che va bene. 6 gesti, 10 maxine vanno benissimo. 50 monede, 4 nita e 10 bull, anche questi non male. Ultima cassettina, 15 carli e 15 vivi. Ottimo, 30 punti per brawler. Andiamo a 425 di oro che non ci basta. Mi sa per ruffare il povero il primo, ma voglio 800. E niente, per questo video vi direi che tutti vi ricordo di iscrivervi qui al centro. Lasciate like e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo per farmi scioppare Elfapenni di andare a condividere il video con i vostri amici per arrivare a 10 like almeno prima che finisca l'offerta che mancano. Adesso 3 giorni e 10 ore, non so quando variegherò il video. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo. Io vi saluto e bello. Grazie. Grazie.